La mia storia di sapori che voglio raccontarvi oggi è legata al mio peregrinare per le cucine sparse per il mondo. Un ricordo particolare è quello che ho legato alla radice di zenzero, che oggi io uso spesso nella mia cucina ma che un tempo non conoscevo. Ho assaggiato in Asia più precisamente quando sono stato a Singapore, quando sono stato in Malesia, quando sono stato in Indonesia a cucinare per promuovere la cucina italiana. La radice di zenzero messa in tantissime preparazioni, in diversi piatti, in diverse paste. Ho scoperto che la pasta asciutta, che è patrimonio gastronomico nazionale per eccellenza, diventa veramente sfiziosa, veramente particolare se si aggiunge un pochettino di radice di zenzero fresca, che ho scoperto tra l'altro avere proprietà al di là di quelle organolettiche, anche diciamo così digestive, diuretiche eccetera eccetera, che adesso non sono la persona data per spiegare, qualità molto molto importanti per l'organismo. Ma soprattutto ho scoperto che può essere mangiata, se viene tagliata in maniera molto sottile con una fettatrice o anche a coltello, basta che sia molto sottile, è buonissima da mangiare fresca così. Buonissima anche per fare una tisana, proprio con la radice di zenzero fresca, anche in questi paesi caldi, dove sembra che non si possa fare altro che per far passare la sete di bere qualcosa di freddo, di ghiacciato, invece no, una tisana calda, fatta con la radice di zenzero, fa assolutamente passare questo senso di sete che viene in questi paesi dove c'è molta umidità. Per cui lo zenzero per me è una cosa che mi riporta alla mente le esperienze che ho fatto in questi paesi lontani ed è sempre un bellissimo, piacevole ricordo.